e carissimi tutti è un grande piacere per me invitarvi al nostro master di primo livello in PNEI e PNEI System. Qualcuno di voi forse mi conoscerà, sono Maria Cornia, specialista in endocrinologia, docente ed esperta di PNEI, adoro la PNEI e da anni mi occupo esclusivamente di fisiopatologia PNEI e della messa a punto di un metodo terapeutico che sia veramente epigenetico, cioè a 360 gradi. Prendiamo la parola PNEI e costruiamo un metodo, P come psiche, apprendimento delle tecniche di gestione dello stress, perché la centratura emozionale è fondamentale per la guarigione e per il nostro stato di benessere. Quindi le tecniche più avanzate, N come nutrizione, ma non un modello di nutrizione. Noi vogliamo che la dieta sia cucita addosso al paziente secondo una finalità che per noi è prioritaria, cioè quella di ridurre l'infiammazione cellulare silenziosa, quindi un'alimentazione antiossidante, antinfiammatoria, ma che sia davvero, davvero cucita sul paziente. Importantissima l'attività fisica, al punto che abbiamo sviluppato la nostra sequenza PNEI Fitness Training, che è un passepartout per il mantenimento di un buon tono muscolare, di un adeguato livello di flessibilità, che sono gli obiettivi che ci caratterizzano, oltre a promuovere un benessere psicologico importante, che è uno dei vantaggi fondamentali dell'attività fisica, e infine un iter terapeutico integrato. Partiamo dalla medicina convenzionale accademica per poi esplorare in modo scientifico nuovi e più avanzati metodi terapeutici, quali la fito- e la gemmoterapia, la medicina low dose, la nutraceutica, i supplementi. Insomma, tutto quanto contribuisce a rendere il nostro iter terapeutico davvero integrato. Questo è il nostro master, mi occupo di PNEI da tanto tempo, da vent'anni, e ritengo nel profondo del mio cuore che se avessi avuto io questo master quando ho iniziato, per me la strada sarebbe stata molto più semplice. Allo stesso tempo però, proprio perché non c'era un protocollo di azione PNEI ben definito, è stata una grande opportunità per studiare, consolidare le mie conoscenze e mettere a punto un percorso didattico il master in PNEI in primo livello che ad oggi ha riscosso un grande successo tra gli oltre i 500 professionisti che lo hanno frequentato. Resto a vostra disposizione per qualunque dubbio o qualunque necessità. Il mio indirizzo mail è infochiocciolamariacornia.it e spero di incontrarvi, di avere il grande piacere di incontrarvi e di far crescere la nostra bella famiglia di operatori PNEI perché noi operatori PNEI possiamo davvero dare ai nostri pazienti quella risposta terapeutica completa, integrata e scientifica di cui hanno bisogno e che cercano loro stessi per primi visitando i nostri centri. Di nuovo, grazie per avermi seguito fin qui e spero di incontrarvi presto.